Il futuro di tre operatrici interne al Museo del Mare di Cariati è a rischio. Le tre donne che percepiscono il reddito di cittadinanza rischiano di perdere il loro posto di lavoro a causa della scadenza del beneficio. Il sindaco di Cariati, Cataldo Minò, ha dichiarato che l'amministrazione comunale si sta attivando per trovare una soluzione al problema. Il museo è una cosa importante, c'è bisogno comunque di maestranze, di gente competente. Qui abbiamo una ragazza che parla tre lingue, quindi è chiaro che va fatto un discorso anche compatibilmente con le esigenze di bilancio perché voi sapete i comuni come sono messi. La situazione è ancora in evoluzione e non è chiaro quale sarà la soluzione definitiva. Tuttavia è evidente che l'amministrazione comunale è intenzionata a trovare un modo per garantire il futuro del Museo del Mare e di Cariati. Il museo lo abbiamo messo nella rete museale insieme a Sibre e insieme ad altri musei. Dovremmo lavorare per renderlo produttivo, quindi tutto quello che dal museo deriva, quindi le visite, le cose che si fanno nel museo, tutto quello che percepiamo come comune dal museo lo investiremo per migliorare i servizi. Quindi queste risorse che riusciremo ad intercettare per le attività museali verranno esclusivamente investite nelle attività museali. Matteo Lauria per l'AC News 24